La necessità di staccare la spina vince sulla paura del covid e sulle incertezze legate al conflitto in Ucraina. Dunque, pandemia e guerra non fermano la voglia di viaggiare degli abruzzesi, che nel lungo fine settimana di Pasqua partono soprattutto verso le capitali europee e il mare di Sharma e Sheik e le Maldive, come racconta il TG8 Daniela Fuschi, titolare di un'agenzia di viaggio a Montesilvano. Si parte, grazie a Dio hanno ricominciato a viaggiare, hanno tutti tanta voglia di ricominciare a vivere. È una ripresa lenta, però si ricomincia a viaggiare. Sono destinazioni europee, quelle richieste, c'è un po' di mare tipo Sharma, Maldive, la richiesta sulle Maldive è stata veramente tanta, e Italia. L'incertezza sul futuro ha cancellato qualche prenotazione che già c'era? No, cancellazioni non ce ne sono state per il momento, almeno io non ho avuto cancellazioni, però c'è tanta incertezza per programmare un viaggio per quest'estate, per un viaggio di nozze, l'incertezza è quella, insomma. C'è stata una rimodulazione comunque anche delle mete? Diciamo di no, le destinazioni sono sempre le stesse, Chiaro che per esempio una crociera a nord Europa che toccava prima San Pietroburgo non c'è, sono state rimodulate un attimino, però le destinazioni quelle Maldive, Seychelles, Ocean Indiano e Stati Uniti vengono richieste. Tra le capitali europee che comunque sembrano essere il porto più sicuro in questo momento, quali sono quelle più gettonate? C'è richiesta per Amsterdam, per la Spagna e il nord Europa. Con il Covid come si viaggia? Come è cambiato il modo di viaggiare? Il modo di viaggiare è cambiato tantissimo, intanto mascherine dall'aeroporto, sull'aereo e durante il viaggio, i vari moduli da compilare che ci stanno togliendo la vita, almeno per noi, ed è cambiato nel senso che bisogna registrare tutti i passeggeri in partenza e al rientro. C'è necessità di Green Pass per la partenza, alcune destinazioni richiedono ancora il PCR molecolare o l'antigenico. Sono aumentati i prezzi con la pandemia, anche con il caro energia? Sì, soprattutto per il caro consumo energia, sono aumentati i prezzi in Italia, tanto. In Italia e anche all'estero, però in Italia si è sentito di più. E in vista dell'estate cosa si prevede? Speriamo di continuare a vivere e a viaggiare perché ne abbiamo tutti tanto bisogno. Speriamo di continuare a vivere e a vivere.